Sanoremo 2018, Piefrancesco Favino, il gesto, che schiazza tutti, video. Ultimo ha trionfato nella sezione nuove proposte, la commovente dedica al fratello. Ed in versione d'arca aperto la quarta serata della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo Claudio Baglioni, Michel Unzichere e Pierfrancesco Favino si sono presentati vestiti da tre motociclisti ed hanno sorpreso tutti con la canzone del famoso cartone animato. La penultima giornata della rassegna Canora è dedicata ai tuetti dei Biget alla proclamazione del vincitore della categoria Nuove Proposte. Ad aprire la gara sono stati proprio i giovani con Leonardo Monteiro, che ha eseguito Bianca mentre Alice Caioli non ha lasciato nulla all'immaginazione presentandosi in gara con vestito di pizzo nero. Il congiuntivo di Lorenzo Baglioni, il ritmo coinvolgente di Mudimbi e la melodia di ultimo hanno chiuso lo spazio riservato ai finalisti delle nuove proposte. Il perdetto finale è arrivato intorno alle 23.30 con Mirko e il cane con Stiamo Tutti Bene ha vinto il premio della critica Mia Martina mentre ad Alice Caioli con specchi rotti è stato assegnato il premio della sala stampa. In seguito Michel Unziker ha comunicato il podio della sezione giovani con il terzo posto di Mudimbi, che è stato accompagnato dai timidi Muguni del pubblico. Piazza d'onore per Mirko e il cane mentre la vittoria finale è andata a ultimo, nome d'arte di Niccolò Morriconi, con il ballo delle incertezze. Dedico questo successo a mio fratello, che sono sicuro riuscirà a vincere la sua battaglia. Il cantante ha iniziato a studiare musica quando aveva appena otto anni al Conservatorio di Santa Cecilia. Poco dopo ultimo ha commentato la vittoria con un post su Instagram, da quando ero bambino avevo solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo. Sotto il profilo artistico il trionfatore di Sanremo 2018 è Piefrancesco Fabino. L'attore ha dimostrato una versatilità sconosciuta al grande pubblico passando dagli esilaranti sketch con Claudio Baglioni e Michel Unziker a suonare magistralmente il sax. L'artista ha mandato in visibilio l'Ariston, ed il popolo della rete, quando è sceso in platea per consegnare un bouquet di fiori e panino alla compagna. L'attrice Anna Ferzetti, e dalla figlia. Sei la donna più invidiata d'Italia. Tra i momenti tap della serata il duetto Baglioni-Nannini sulle notte di amore bello con lento finale, il premio Milba, riterato dalla figlia della Pantera di Goro, e il ricordo di Lucio Battisti con Piero Pelù. Sul palco della Ristona anche Federica Sciarelli, che ha dato vita ad una simpatica esibizione con il direttore artistico. Tra i duetti apprezzamenti per l'esibizione di Arisa con Caccamo, di Simone Cresticchi con Fabrizio Moro e Ermal Meta, Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti con i te colorse del coro dell'Antoniano con lo Stato Sociale. Quest'ultimi non sono stati premiati dalla giuria di qualità, chi li ha relegati in fascia gialla. Nelle zone alte della classifica si confermano Ornella Vanomi e Bungaro, Roy Pace e Diodato, Max Gazze, Federico Moro e Ermal Meta e Ron. Rispetto alle precedenti serate ha trovato collocazione nelle zone di vertice anche Luca Barbarossa con il brano Ersale. Grazie a tutti.